Oggi con noi Francesco Loperfido, rappresentante del progetto di Sole Amico. Allora oggi si è parlato di questa applicazione, della protezione solare. Quanto è importante proteggere i nostri occhi? È fondamentale sia in età scolare e sia in età adulta. In età scolare perché abbiamo un occhio in crescita e quindi è anche molto più esposto poi al sole perché un bambino è per ore sotto il sole soprattutto in estate e quindi necessita di una protezione adeguata. E poi in fase adulta gli anziani vanno protetti perché diminuisce il film acrimale, perché la facilità verso la cataratta e verso l'invecchiamento dell'occhio induce ad avere una protezione migliore. E poi non dimentichiamoci che la protezione è fondamentale a secondo dove si va, a quale altezza si va, perché cambia l'entità e la quantità di ultravioletto e quindi la necessità di essere protetti. Grazie mille per essere stato con noi e grazie per aver contribuito a questo progetto. Prego, prego, grazie a voi.